Buongiorno a tutti, la Cadeoge di oggi ci porta indietro di 107 anni al 15 ottobre 1917 e alla fucilazione di Matari eseguita nel cortile della prigione di Vincennes alle porte di Parigi. Era nata nei Paesi Bassi e dopo un matrimonio fallito si trasferì a Parigi, nella fascinante Parigi della Belle Epoque, dove divenne presto una celebrità come danzatrice esotica. Il suo fascino orientale, in gran parte costruito su finte origini esotiche, attirò l'attenzione di molti uomini aristocratici, tra cui politici e ufficiali militari. Con lo scopio della prima guerra mondiale, Matari, che aveva relazioni corante ufficiali sia della Germania che della Francia, fu sospettata di essere una spia. Venne arrestata dalla polizia francese con l'accusa di aver fornito informazioni ai tedeschi, informazioni che avrebbero causato la morte di migliaia di soldati. Il suo processo fu rapido e, come sempre accade in questi casi, pieno di controversie. Le prove contro di lei erano in gran parte basate su testimonianze e dubbie, ma tuttavia nel 1917 la Francia era in uno stato di allerta. Le sorti della guerra non erano ancora assegnate e per Matari, accusata di tradimento, il processo fu breve e senza appello. Il suo corpo fu sezionato all'Istituto di Medicina Legale di Parigi per un'esercitazione degli studenti.